siamo con amoruso una partita con un finale incredibile una difesa veramente ottima anche oggi tanti tanti tiri in porta per la Lusitana una partita positiva sì dai diciamo una partita abbastanza positiva sicuramente il gol all'ultimo si poteva evitare però comunque abbiamo difeso bene anche col quinto il comportamento della squadra è piaciuto veramente tanto oggi hai lottato parecchio e sei riuscito anche a trovare ottime giocare tecniche vuol dire che quando arriva la palla alta le metti sempre a terra è stata una partita abbastanza difficile per noi pivoi centrali erano belli tosti però vabbè abbiamo provato a far massimo comunque c'è da dire che ovviamente scusa il termine rode per il per il finale però comunque poche seconde prima l'avevate l'aveva devo voi messa dentro a volte i finali sono così certo è che la Lusitana può andare avanti questa partita a testa altissima e si guarda avanti con fiducia la prossima come si affronta adesso testa lunedì a sabato prossimo abbiamo laurentino in casa nostra ce li andremo tutta la settimana per portare idro e punti a casa grazie grazie a voi